Cari amici dell'Orizzonte degli Eventi, buonasera, bentornati e bentornato dopo due anni, bentornato veramente, sono veramente contenta di rivederlo sull'Orizzonte degli Eventi, il dottor Mauro Stenico, buonasera Mauro, grazie di aver accettato l'invito. Buonasera a te Barbara e grazie di avermi invitato. È sempre un onore e un piacere, vi ricordo che due anni fa appunto presentai il dottor Stenico per un suo libro molto molto interessante che era L'universo di Stalin e la cosmologia sovietica tra scienza e ideologia. Vi invito a recuperare questo video se non l'avete ancora visto, perché getta una luce molto particolare su appunto questo rapporto tra scienza e ideologia. Allora, perché è tornato il dottor Stenico? Soprattutto per parlare di un suo libro che ha dedicato a una figura di cui si parla molto, anche su questo canale ne ho già parlato diverse volte, ma è un argomento che appassiona sempre quelli che mi seguono, l'anticristo. Ecco, questo libro che vedete in sovraimpressione, l'anticristo, considerazioni e ipotesi, una disamina di questa figura dal punto di vista delle scritture, dal punto di vista della teologia, poi ci saranno anche dei rimandi alla letteratura, alla filosofia che si è occupata di questa figura. Io ricordo che Mauro Stenico è laureato in filosofia, linguaggi della modernità con una specializzazione in comunicazione politica ed è da otto anni ormai, se non mi sbaglio, sindaco di Fornace, un paese in provincia di Trento. Ha un sito che troverete su YouTube, al quale vi invito ad iscrivervi numerosi, che si chiama Scuola di filosofia di Fornace, dove trovate anche altri interessantissimi contributi del dottor Stenico e dei suoi ospiti. E poi dopo parleremo anche di come ottenere questo libro, di cui parliamo questa sera, c'è una modalità diretta per ottenere questo libro. Allora, l'anticristo, considerazioni e ipotesi. Ecco, ipotesi vuol dire che non c'è nulla di certo su chi potrebbe essere l'anticristo, che forma potrebbe avere. L'anticristo è anche un concetto. Ecco, ti chiedo subito come nasce l'idea di questo libro, come mai hai dedicato tanto tempo e tanto impegno a questo concetto e a questa figura così presente, purtroppo, nei nostri tempi. Bene, grazie Barbara. Allora, intanto comincio con il dire che questo non è affatto un trattato esaustivo, quindi è un libro veramente di poche pagine che si legge, penso, in un paio di ore tranquillissimamente. È solo un invito alla riflessione su questa figura, come hai detto giustamente tu, in via ipotetica, anche perché poi ne parleremo, c'è proprio un divieto della Chiesa di pronunciarsi in maniera certa sull'identità di questa figura, ma magari è qualcosa che approfondiremo dopo. Dunque, l'idea di questo libro è nata dal fatto che il tema della fine della storia, della fine dei tempi, è fondamentale comunque in ottica cristiana per qualsiasi cristiano, in modo particolare, parlando personalmente per un cattolico, e specialmente in un momento storico come quello che stiamo vivendo da, posso dire tranquillamente, possiamo dire da qualche decennio a questa parte, la dottrina, la teologia, la tradizione e la liturgia versano in condizioni di gravissima crisi, perché? Per il fatto che sono state accantonate. Quindi c'è stato un accantonamento della teologia tradizionale, della tradizione, della liturgia, e quindi, diciamo, è in corso in qualche modo una deviazione da quella che è sempre stata la nostra tradizione, la religione cattolica. Vorrei anche ringraziare, perché il loro contributo ritengo sia stato essenziale, il professor Matteo Taufer, che gentilmente è un docente, tra l'altro esperto di lingua greca e lingua latina, ha scritto la prefazione a questo volume, vorrei anche ringraziare, se mi permetti però Barbara, mia moglie, perché ha di sua mano fatto il disegno della copertina, che è un po' una metafora visiva dell'anticristo, nel senso che è bello all'apparenza, ma mostro interiormente, c'è questo proprio doppio volto, da una parte c'è questo individuo che si presenta con un aspetto affascinante, no, grazioso, dall'altra c'è il dragone, quindi questa differenza, che però convivono nella stessa persona, già che l'anticristo è un uomo in carne e ossa, tra esteriorità e interiorità, cioè tra come appare e chi veramente è. Ci sono ovviamente alcuni libri di riferimento che ho consultato, li ho messi lì nella bibliografia finale, e magari qua e là ne citerò qualcuno. Come inizia il tuo libro? Mi è piaciuto tantissimo, perché inizia con un concetto sul quale mi piace molto discutere con i miei ospiti, perché lo ritengo un concetto fondamentale per comprendere anche tutta la nostra epoca e soprattutto questi ultimi tempi, ovvero il concetto di timor di Dio. Ecco, timor di Dio, che è addirittura il principio della sapienza. Ecco, allora, pare che noi viviamo in tempi in cui non si ha più timor di Dio, anzi lo si sfida apertamente, anche all'epoca della hubris, c'è una continua lotta a superare in onnipotenza Dio, e non se ne ha più paura. Questo sta provocando, non c'è bisogno di ricordare quanti disastri in questi ultimi tempi. Ecco, però vorrei che appunto ci parlassi del perché tu decidi di iniziare questo libro, forse non casualmente, da questo concetto così importante, il timor di Dio. Perché il timor di Dio, come segnano le scritture, è appunto il principio della sapienza, nel senso che chi ha veramente timore di Dio sa che Dio non è quell'individuo bonaccione che oggi ci insegnano. Cioè, ricordiamo sempre che dire che Dio sia buono non significa che sia bonaccione, che permetta tutto. Buono e buonismo, bontà e buonismo, sono due cose completamente diverse. Allora, la domanda che dobbiamo farci è, noi oggi, Barbara, abbiamo veramente il timor di Dio? Perché se avessimo davvero il timor di Dio, sapremmo benissimo che Dio, oltre che misericordioso, è anche giusto, è anche un giudice, quindi vuol dire che valuta ciò che facciamo, remunera, premia, ma anche punisce. Ovviamente il timor di Dio è anche una leva fondamentale per trattenerci dal compiere determinate azioni di un certo tipo. Come hai detto tu giustamente, oggi noi stiamo apertamente sfidando Dio. L'abbiamo pian piano negli ultimi decenni relegato a parte, ora l'abbiamo messo in uno sfondo, ma ben presto purtroppo penso che si farà anche a gara per eliminare il ricordo stesso di Dio. Vedi quello che sta succedendo anche in questi giorni con i casi di dominio sulla vita dell'individuo. Abbiamo avuto proprio pochi giorni fa il caso della piccola Indy nel Regno Unito, come non ricordare che però Indy si aggiunge alla lista di altri bambini che sono stati fatti perire da parte dello Stato, uno Stato che a questo punto si ritiene padrone della vita, ma il Regno Unito è un esempio perché casi del genere li abbiamo avuti anche negli Stati Uniti, li abbiamo avuti in Belgio, in Olanda, li abbiamo avuti anche in Italia, ricordiamoci questo. Quindi la tracotanza, la cosiddetta ibris dell'uomo ormai è stata lasciata sfogare in tutta la sua pienezza. Questo significa che noi stessi stiamo diventando dei a noi stessi, tant'è che mi ricordo anni fa di aver sentito, di aver avuto una discussione con una persona, si parlava dei comandamenti, del decalogo, di precetti, eccetera, a un certo punto questa persona ha interrotto la discussione dicendo no, ognuno è Dio a se stesso. Ecco, questa è la società del ognuno è Dio a se stesso. Diciamoci, chiediamoci, come faccia con una convinzione di fondo di questo tipo a sopravvivere ancora il timor di Dio. E poi è paradossale perché una società che in pratica nega Dio, nega la sua esistenza, però crea tante divinità che sono, che siamo, dovremmo essere tutti noi, ognuno dovrebbe essere una divinità a se stante, è un controsenso. Cioè, il vero ateismo dovrebbe essere quello che nega anche che l'uomo possa farsi Dio. Invece questi, sembra quasi una volontà di sostituzione più che di negazione. Brava, infatti io Barbara, qua ti faccio una provocazione perché mi hai lanciato l'assist davanti alla linea di porta e io non posso non fare gol. E questa non era preparata, lo dico per tutti gli amici. La vera domanda che volevo fare è la seguente, provocazione, esiste l'ateo? Esiste l'ateo vero e proprio? No, l'ateismo in sé non esiste, nel senso che anche chi nega Dio, comunque come hai detto giustamente tu, vi sostituisce qualcosa. Per esempio la dottrina biologica attuale fa del proprio Dio il caso, la materia, la cosmologia materialistica del giorno d'oggi fa anche questa del proprio, la propria divinità nel caso, l'evoluzione, tutto sorge dal caso, a questo punto la vera divinità è il caso, è il caos. Quindi giustamente noi abbiamo anche questa tendenza, questa sete di infinito, ne parlava già Sant'Agostino, che in qualche modo dobbiamo appagare. L'ateo in senso vero e proprio quindi non esiste. Questa è una mia convinzione dalla quale non mi smuoverà nessuno. Faccio una piccola divagazione anch'io ma mi hai provocato con la cosmologia. L'altro giorno guardavo così per caso un documentario dove si parlava delle origini, come si è originato l'universo e praticamente tutto questo bellissimo discorso su come dalla materia all'energia scaturito, scaturite tutte le stelle, le galassie, alla fine non dava la risposta fondamentale, cioè perché, a che scopo. Un bel giorno di miliardi di anni fa si è accesa questa lampadina nel vuoto ed è nato l'universo però non c'era nessun ragionamento filosofico su questo. Quindi questa scienza che ormai è scientismo più che scienza che non dà più le risposte anche semplicemente dire chissà se noi veramente riusciremo un giorno a capire, avremo la capacità di capire l'universo. Invece ci dicono sì sì un giorno lo capiremo ma perché non è detto potremmo essere anche esseri molto limitati che di fronte a questa meraviglia possono arrivare fino a un certo punto di comprensione. Allora questo era il sogno di Stephen Hawking non c'è bisogno che presentiamo perché è un cosmologo britannico che ha avuto una vita molto sfortunata io mi permetto di dire cosmologo di grande valore ma filosofo terribile filosofo terribile dal punto di vista filosofico era veramente tremendo scrive questa opera intitolata The Great Design il grande disegno per negare che ci sia che ci sia un disegno alla fin dei conti anche se nella sua vita è stato un po' ondivago ondivago su questo. Il problema della scienza materialista empirica è che ritiene che la realtà sia ridotta tutto ciò che è misurabile esperibile traducibile in numeri in quantità e nega che si possano fare domande che guardano all'oltre. Una volta era mainstream mi è capitato già di dirlo in un'altra trasmissione ci tengo a dirlo era mainstream che gli scienziati filosofi naturali fossero anche religiosi tutti credevano in Dio o quasi tutti se guardiamo i filosofi dei secoli precedenti quindi farsi domande metafisiche sul che cosa significa che l'universo abbia avuto un inizio e avrà una fine questa è tra l'altro la grande scoperta cosmologica del ventesimo secolo l'universo ha avuto un inizio ha uno sviluppo e avrà una fine a questo punto dovremmo essere portati noi stessi a porci dei quesiti metafisici che vanno al di là della dimensione empirica se ciò che ha avuto un inizio ha avuto un inizio deve esserci una causa se avrà una fine vuol dire che non è eterno se non è eterno vuol dire che probabilmente che vuol dire che è contingente quindi che ci sia stato un agente una causa che ha prodotto tutto questo ecco a noi oggi viene proibito viene diciamo sconsigliato fare domande di questo tipo e dobbiamo dare per scontato che tutti questi salti no ontologici ad esempio anche nella cosiddetta evoluzione della vita dalla materia inerte alla vita dalla materia inerte alla vita c'è un salto di perfezione infinito dalla vita non intelligente alla vita intelligente anche un salto ontologico di qualità di grado di perfezione infinito no si danno per scontati che siano avvenuti non sappiamo come perché la dimostrazione diciamo vera e propria non l'abbiamo però si deve presupporre che siano avvenuti scusami Barbara però mi hai chiamato in causa su tematiche che mi ha perso no perché poi so che tu sei quando parli di cosmologia sei molto molto ferrato sull'argomento quindi ti ho volutamente provocato su questo allora torniamo all'anticristo nell'introduzione tu parli del fatto che Dio sia misericordioso ma anche giudice ecco secondo me bisogna anche riportare al giusto significato questi due termini misericordioso e giudice il giudice deve essere obiettivo e la misericordia non deve essere deve essere giusta ecco parlaci di questo di questo concetto anche questo fondamentale allora noi oggi abbiamo perso di vista ne parlavamo prima parlando del timore di Dio il fatto che appunto Dio sia misericordioso e anche giudice a voler essere corretti in teologia dovremmo dire che Dio non è misericordioso e giusto Dio è la misericordia e la giustizia già che gli attributi di Dio si identificano con Dio stesso ma adesso non voglio adentrarmi in disquisizioni filosofico e teologiche di questo tipo nelle scritture e nella storia Dio ci ha sempre esortato alla fedeltà anche nei momenti peggiori questo lo vediamo nell'Antico come nel Nuovo Testamento nell'Antico Testamento abbiamo dei racconti di figure straordinarie pensiamo alla fedeltà della giovane Susanna nella sua la sua fede in Dio nel momento in cui la stanno denigrando e sta per essere lapidata per un reato che non ha commesso pensiamo alla fedeltà di Tobia pensiamo a Daniele ai tre giovani che vengono messi nella fornace di Babilonia che sopravvivono alle fiamme fiamme che poi danno fuoco a tutti coloro che stanno praticamente alimentando le fiamme di questa di questa fornace stessa ma andiamo anche a leggere una cosa che abbiamo dimenticato il martirorologio romano quotidiano le figure dei martiri che specialmente nei primi secoli dopo Cristo diedero la vita per non rinegare una virgola della verità Barbara veramente una virgola della verità ecco tutte queste cose noi oggi le trattiamo come cose del passato ma il martiri ma sì sono state cose dei primi secoli cosa vuoi ricordo di aver sentito un anno e mezzo fa un predicatore fra virgolette fra virgolette sentir dire questo durante una predica non dico né dove né quando esattamente però lo voglio dire il fatto lo posso dire si parlava dei martiri e il martirio disse pubblicamente ma sì partire è una roba del passato è una roba che oggi non serve più i martiri hanno fatto la loro strada noi facciamo il nostro percorso ecco questo è il rinnegamento totale di quello che hanno fatto loro della testimonianza del timor di Dio e della croce ma il fatto che ci sia questo ripudio anche della figura dei martiri non deve sorprenderci perché Barbara noi oggi la sofferenza il dolore no? la fedeltà alla verità con la B maiuscola è una cosa che abbiamo perso completamente ma giustamente si dice se Dio è la misericordia e anche la giustizia è chiaro che Dio chiederà conto a ognuno di noi delle nostre azioni e delle nostre omissioni nella storia Dio è anche arrivato a servirsi dei suoi stessi nemici per punire il popolo che lo ha tradito perché Dio lecitamente ed è l'unico può servirsi del male per compiere il bene mentre all'uomo non è dato porre il male qualcosa di malvagio no? nella speranza di trarne bene in tutto questo il regno dell'anticristo noi stiamo preparando i fondamenti dopo non sappiamo di fatto quando avverrà quando ci sarà non ne abbiamo idea però certo stiamo ponendo dei fondamenti importanti la prova del regno dell'anticristo sarà durissima è certa perché è di fede ed è di tradizione ed è permessa da Dio quindi arriverà non contro la volontà di Dio perché nulla avviene contro la volontà di Dio ma con il permesso di Dio con il permesso di Dio avrà comunque dei limiti precisi perché dobbiamo sempre ricordare che l'anticristo non farà tanto male quanto vorrà cioè annientando completamente ogni ricordo di Dio ne farà comunque tantissimo ne farà veramente tanto ma non tanto quanto vorrebbe perché nemmeno a quel tempo Dio abbandonerà completamente la creatura darà modo di ritornare a lui e al momento stabilito come ci insegnano le scritture ci insegna la fede ci insegna la tradizione il regno dell'anticristo in tutta la sua potenza verrà spassato via con un soffio proprio come io ricordo questo episodio perché penso sia veramente importante re Ezechia fedelissimo a Dio nel momento in cui la città di Gerusalemme viene assediata dagli assiri e quindi umanamente restano veramente poche speranze però lui si affida completamente a Dio ed ecco quello che ci dicono le scritture Isaia 37 36 38 uscì l'angelo del Signore e percosse nel campo degli assiri 185 mila uomini la mattina tutti questi erano cadaveri senza vita e il re degli assiri uscì dagli accampamenti e se ne andò per la via del ritorno e si fermò in Ninive e durante la via del ritorno mentre si ferma ad adorare una delle sue divinità viene peraltro ucciso dai suoi stessi figliuoli a tradimento quindi è un qualcosa che viene permesso da Dio e quindi chi opera in nome dell'Anticristo in realtà opera secondo il permesso sì il permesso è quello che quello che deve deve accadere che è scritto in pratica ecco da cosa deriva la necessità di questo passaggio di purificazione attraverso il regno dell'Anticristo allora questa è una domanda molto molto complessa io posso provare posso provare nei miei limiti a dare una risposta nel momento in cui l'umanità abbandona Dio perché ricordiamo che non è mai Dio che abbandona l'umanità è l'umanità che sceglie di abbandonare Dio questo teniamolo sempre presente come l'ha fatto la scienza e come l'ha fatto la filosofia nel corso dei secoli ecco che a questo punto è come se Dio dicesse all'uomo benissimo hai voluto fare a meno di me io ho creato l'universo ho creato te volevo solo che riconoscessi me come signore creatore ti ho dato delle regole ma ti avevo posto anche in un paradiso terrestre con solo il divieto di compiere un certo atto e tu hai compiuto proprio quello vuoi fare a meno di me benissimo allora vediamo io ti lascio andare per la tua strada vediamo cosa ne deriva e se l'uomo va per la sua strada l'uomo che è incline al male dai tempi insomma della caduta non può che dare pieno sfogo al male salvo un manipolo di individui che rappresenteranno ancora la testimonianza ma sarà proprio come nei primi secoli dopo Cristo quando i cristiani rimasti dovevano riunirsi nelle catacombe sotto pena di essere uccisi non appena fossero stati individuati come cristiani anche solo in una parola questo manipolo questo piccolo gruppo di uomini potrà far rinascere la fede potrà far rinascere la religione ricordiamoci che anche nei tempi di persecuzione peggiori che ci saranno non sappiamo quando ma ci saranno la chiesa non scomparirà del tutto le porte degli inferi non prevarranno anche se sarà nella sua magari visibilità nella sua manifestazione esteriore sarà ridotta diciamo dovrà ritornare a riunirsi forse nelle catacombe o in luoghi nascosti in luoghi rimotti chissà dove anche questa è una cosa che non sappiamo non scompariranno mai completamente i sacramenti non scomparirà mai completamente diciamo la religione perché abbiamo una promessa certo questo periodo di purificazione come l'hai denominato tu sarà durissimo ma è da lì che probabilmente grazie all'esempio di pochi e all'intervento divino soprattutto perché l'esempio di pochi è comunque sorretto dall'ausilio di Dio perché i martiri e noi non possiamo compiere niente senza Dio ci sarà una rinascita è più facile in chi magari ha ritrovato la fede comprendere percepire questi tempi apocalittici o di preparazione dell'apocalisse chiamiamoli come vogliamo rispetto magari agli stessi uomini di chiesa agli stessi teologi che magari in certi casi non hanno una visione escatologica sembra che sia qualcosa che è stato o rimosso cioè se tu non hai una visione escatologica della tua esistenza è come se tu ti illudessi di vivere per sempre che tu sempre andrà tutto bene esatto che abbiamo senza terminare ricordiamoci ricordiamoci i novissimi morte giudizio inferno paradiso già ragionare seriamente tenere sempre a mente nel proprio cuore questo ma in maniera seria non come concetti vuoti già questo ci aiuterebbe molto anche in quella strada del timor di Dio morte perché dobbiamo morire giudizio giudizio particolare al momento della morte poi il giudizio pubblico ci sarà anche il giudizio pubblico sociale perché l'uomo è un essere individuale ma scusa scusami è un essere che agisce da individuo ma anche è un essere un animale sociale come l'ha sempre definito anche la filosofia classica e poi ci sarà da lì l'esito l'esito che sarà perenne ecco ci temo solo a fare questo piccolo appunto certo nel libro non ti lasci suggestionare dal fare delle dall'individual cercare di individuare l'anticristo in una figura storica precisa perché questo mi era sfuggito in altre occasioni c'è un divieto di pronunciamento certo perché anche forse non è così chiaro chi potrebbe essere ci sono stati tanti scrittori che hanno descritto l'anticristo hanno scritto dei libri peraltro molto belli però sono tutte ipotesi non c'è nessuna certezza su questo ecco il concetto di divieto di pronunciamento certo questo è fondamentale c'è anche un decreto sì sì che adesso andiamo anche ad esaminare brevemente il divieto di pronunciamento certo è un decreto del 1516 che risale al quinto concilio lateranense sotto papa leone decimo che dice ordiniamo no consigliamo raccomandiamo ordiniamo a tutti coloro che esercitano l'ufficio della predicazione o che lo eserciteranno in futuro di non presumere di fissare nelle loro predicazioni o nelle loro affermazioni un tempo determinato per i mali futuri sia per la venuta dell'anticristo sia per il giudizio finale dato che la verità ha detto non vi è dato conoscere i tempi e i momenti che il padre ha riservato alla sua scelta coloro dunque che sino al presente hanno osato asserire simili cose hanno mentito e si è avverato che per fatto loro un gran danno è stato arrecato l'autorità di quelli che predicano saggiamente allora le motivazioni di questo decreto sono varie io ne posso indicare tre seguendo anche qui la linea di padre a righini che è uno dei volumi insomma che sull'anticristo uno di quelli che maggiormente ho consultato che riprende a sua oltre un volume di più di un secolo fa di padre lehman innanzitutto solo dio è padrone del tempo e dello spazio quindi se conoscere con certezza quello che verrà non spetta a noi non spetta a maghi di nessun tipo maghi indovini e cose di questo tipo ma attenzione neanche a satana satana e i demoni pur essendo angeli decaduti quindi molto più intelligenti di noi molto più argutti di noi non possono conoscere i futuri contingenti quindi in nessun modo noi possiamo conoscere ciò che solo dio conosce dio che è creatore del tempo e dello spazio della storia di quello che è stato è e sarà due dobbiamo evitare ai fedeli inutili preoccupazioni dice il papa non andiamo ad angosciarli con pretese ipotesi l'anticristo tra dieci anni tra trent'anni no non facciamolo perché metteremo ancora diciamo più sotto pressione tra virgolette i fedeli che già vivono in tempi molto difficili terzo questa è una motivazione alla quale tengo personalmente nel senso che l'ho affrontata anche parlando in altri video e in altre in altri diciamo in altri contesti di San Tommaso d'Aquino evitare scandali e perplessità attenzione perché qui abbiamo a che fare con un problema comunicativo perché anche il problema della comunicazione in teologia è fondamentale San Tommaso dice se noi diamo come per fede delle cose che noi non conosciamo e che sono meramente congetturali e poi non si verificano faremo la figura scusami te lo dico in termini dei fessi allora la gente come è possibile che poi si segua su dogmi come quella della Santissima Trinità eccetera che quelle si sono cose rivelate rivelate con certezza ma su cose che non sono state individuate con esattezza nella data precisa nella figura precisa neanche per rivelazione perché non c'è stato rivelato non presumiamo noi di porle come per fede perché nel momento in cui non si verificheranno è chiaro che poi l'edificio intero della fede crollerà questa preoccupazione che già esprimeva San Tommaso è fondamentale è fondamentale quindi non dobbiamo sottoporci a un processo di ridicolizzazione questo lo diceva nella Somma Teologica in un articolo nella parte prima nel quale San Tommaso si chiede se per esempio il dogma della Trinità sia dimostrabile razionalmente con argomentazioni razionali la risposta ovviamente è no perché è un articolo di fede non è un articolo di ragione non è una verità elaborata dalla ragione sappiamo che Dio è un neutrino solo per fede e permane un mistero allora lui dice a tutti coloro che hanno la presenzione di dimostrare queste cose che sono misteri sopranaturali con argomentazioni razionali rischiano di fare ancora più danno di quanto non farebbero tacendo e dicendo che si tratta effettivamente di misteri San Paolo sul discorso dell'evitare poi inutili preoccupazioni ai fedeli è chiarissimo si veda quello che sta succedendo durante la vita di San Paolo all'antica comunità cristiana di Tessalonica da Timoteo suo discepolo viene avvertito Paolo che la comunità vive in ansia perché teme l'imminenza della fine dei tempi addirittura cominciano a un certo punto anche a girare tant'è che San Paolo deve indirizzare una seconda lettera non una delle finte lettere di Paolo e Paolo dice non credete a questi documenti che non vengono da me Paolo invia allora due lettere nella prima lettera alla comunità di Tessalonica dice chiaramente che non è dato conoscere il tempo di ritorno del Cristo ma occorre sempre essere presenti verrò come un ladro alla sordina come un ladro di notte è chiaro che se tu se lo insegna il nostro Signore sai quando arriva un ladro sai guarda ti fai trovare pronto per forza è chiaro è chiaro cosa si vuole mi preparo con i carabinieri con il fucile ah guarda che arriva stanotte alle due va bene ok grazie una soffiata però è chiaro che la fedeltà che Dio vuole da noi prevede che siamo sempre pronti quindi essere sempre pronti al giudizio e alla morte nella seconda lettera e qui arriva il tema che stiamo trattando più specificamente noi Paolo dice che la fine non giungerà se prima non si sia manifestato il figlio della perdizione e non sia stato tolto l'ostacolo che lo trattiene vorrei leggere alcuni passaggi di questa seconda lettera Barbara allora vi preghiamo fratelli quanto alla venuta del Signor nostro Gesù Cristo di non lasciarvi intimorire né per false ispirazioni né per discorsi né per lettera sta parlando delle false lettere no attribuite falsamente a lui che giravano quasi che fosse imminente il giorno del Signore perché ciò non sarà se prima non venga l'apostasia l'apostasia la grande apostasia no un gruppo di persone l'apostasia e si sia rivelato il figlio della perdizione l'avversario che si innalza soprattutto quello che ha chiamato Dio o che è oggetto di venerazione al punto da sedersi egli nel Tempio di Dio proclamando se stesso come Dio già è in azione il mistero dell'iniquità solamente vi è colui che lo trattiene ora quindi il figlio della perdizione in un modo o in un altro sta già agendo nella storia sta già agendo nella storia solo che c'è un ostacolo allora la domanda potrebbe essere ma com'è che diversi santi e anche papi sono arrivati nel corso del tempo a parlare dell'imminente avvento del nemico non c'è una contraddizione con questo stesso decreto no attenzione perché è vero che c'è il divieto di pronunciarsi in maniera certa questo sì l'abbiamo visto ma non è vietato parlare dell'anticristo in termini congetturali cioè quello che potrà essere l'ambiente che ne preparerà l'avvento quelle che potrebbero essere caratteristiche generiche di questa figura quindi tutti quei santi nel libro ne riporto insomma vari esempi che vedevano un anticristo in figure storiche come Nerone o altre non sbagliavano un anticristo non l'anticristo è chiaro che attraverso queste figure Nerone e molti altri l'anticristo il regno dell'anticristo si sarebbe potuto manifestare in tutta la sua interezza solo che questo non avvenne perché appunto era ancora in azione quell'ostacolo che lo tratteneva ma qual è quell'ostacolo è qui anche qui ci sono diverse opinioni di santi per San Tommaso è la chiesa l'ostacolo la società sottomessa al Papa chiaro che queste sono tutte cose che abbiamo perso cioè a questo punto l'ostacolo è stato rimosso allora padre Arrighini dice nel suo volume dedicato all'anticristo che in ogni epoca Satana tiene pronti potenziali anticristi e non aspetta altro cito le sue parole che la chiesa abbia a cedere per scatenarlo completamente ecco qui c'è la figura del catecon esatto di colui che trattiene ecco anche qui non c'è una certezza su chi sia se sia un uomo se sia un appunto un ordine sociale qualcosa un ordine sociale è molto interessante il discorso di colui che trattiene ovvero che impedisce anche con la sua stessa esistenza fin tanto che vive e poi magari viene sostituito da un altro alla sua morte comunque questa linea di difesa che serve non a evitare perché sappiamo che non è non è non è inevitabile la venuta ma a trattenere appunto a a fare in modo che non ci sia quello scatenamento definitivo che sarebbe il segnale di questo avvento di questa figura di questo di questo anticristo ma la domanda che uno si fa anche se non possiamo ovviamente dire chi potrebbe essere se il classico filantropo oppure un politico oppure una persona dello spettacolo queste sono tutte speculazioni molto moderne che si fanno ma se ci guardiamo intorno ce ne sarebbero tanti di candidati anticristi da come si comportano però ecco il concetto fondamentale se Cristo è il Dio incarnato anche l'anticristo è un qualcosa di incarnato è un essere soprannaturale che però si incarna in un uomo o è proprio un uomo allora domanda molto interessante perché anche su questa sulla natura dell'anticristo c'è ogni tanto capita di sentire un po' di confusione c'è chi dice l'anticristo è satana no l'anticristo non è satana è un demono incarnato no l'anticristo è un uomo in carne e ossa è vero che l'apocalisse ne parla come una bestia che sale dal mare dalle acque è vero ma bestia per simboleggiare la grande potenza che avrà questo individuo in carne e ossa la speculazione ci porta a dire che probabilmente nascerà da una famiglia umile non avrà un potere per eredità no probabilmente da un'unione illegittima proprio per fare da contraltare a Cristo che è nato da una vergine e quindi per far da contraltare probabilmente nascerà da un'unione illegittima addirittura c'è chi vocifera c'è chi vocifera ma sono anche qui speculazioni l'unione tra una donna e addirittura satana stesso in modo però sai anche qua poi si aprono congetturo su congetturo preferisco onestamente lasciar perdere certo è che l'anticristo avrà proprietà opposte a Cristo questa è una quindi il luogo diciamo di nascita Daniele a un certo punto se si va a leggere il libro di Daniele il libro dell'antico testamento tra l'altro bellissimo bellissimo si vedono le varie prove di Daniele nella fossa dei leoni non per una volta ma per due volte addirittura per due per due volte ha una visione nella quale vede alcune bestie ad un certo punto una di esse si contraddistingue dalle altre perché ha dieci corna fra queste dieci corna un corno comincia a spuntare a farsi spazio a crescere sempre più il corno crescente appunto è anche un'immagine di questa potenza che è piccola all'inizio ma che poi si espande si distinguerà certamente l'anticristo questo individuo per sommo amor proprio attenzione sommo satana volle farsi simile a dio ma l'anticristo farà di più si pretenderà lui stesso come dio si presenterà quindi come dio vorrà farsi adorare e qui attenzione perché in un certo modo l'anticristo in questa sua presunzione raggiunge anche il livello della stupidità uno dice ma come come è possibile dire questo eh sì perché satana che ripeto pur essendo un demone è comunque un'intelligenza angelica e sa che certe cose non si possono fare sempre sant'ommaso nella somma teologica parte una questione 63 articolo 3 si chiede se il demonio abbia desiderato essere come dio allora sant'ommaso dice satana desiderò essere come dio ma non con desiderio di piena uguaglianza perché è ontologicamente impossibile per un ente creato già nel momento in cui sei creato sei un angelo sei un angelo decaduto ma sei comunque una creatura non puoi essere già qui come dio che è l'increato ed è l'eterno satana voleva essere uguale a dio con desiderio dice sant'ommaso di somiglianza nel senso che satano volle porre come fine ultimo assoluto della propria esistenza quella beatitudine che lui avrebbe potuto raggiungere con le sue forze che non sono forze divine quindi non la beatitudine soprannaturale che possiamo raggiungere che egli avrebbe potuto anche conservare no se avesse resistito nella nella sua fedeltà a dio invece sceglie scelse di opporsi a dio e ormai sappiamo che una volta che la decisione è fatta nel caso degli angeli e dei demoni c'è l'ostinazione che poi non cambia beh si è l'ora di porre come fine ultimo non il fine soprannaturale ma quel fine che lui avrebbe potuto raggiungere con le sue sole forze da questo primo desiderio dirivo al secondo quindi avere il dominio su tutte le altre cose create proprio come dio è il signore del creato di fatti satana è costantemente impegnato anche per mezzo dell'attività dei suoi demoni a distruggere la creazione quindi satana odia immensamente la creazione ci sono delle cose dicono alcune insomma visioni che ci sono state nel corso del tempo ci sono delle cose che creano disgusto a satana stesso che gli disgustano perché comunque satana conosce benissimo quello che dovrebbe essere e che lui non voglia che sia e però se ne serve appunto per diciamo rendere e avvelenare la creazione diciamo così comunque per rispondere alla tua domanda uomo e carne e ossa il regno dell'anticristo invece anche questo è è un concetto abbastanza difficile da chiarificare e forse è giusto anche così visto che non non si possono non si può svelare cioè il finale lo sappiamo sappiamo che avverrà appunto la parousia quindi la la nuova venuta di Cristo e che il male sarà sconfitto e comunque il male sa ecco sa che sarà sconfitto certo lo sa perché quindi anche qui c'è l'inganno di colui che illude i suoi seguaci di poter essere condotti alla vittoria mentre invece vanno lui lo sa Barbara di fatto il suo obiettivo è cercare di perdere quanto più possibile persone e anime mentre attende la confitta finale intanto si dà da fare per distruggere ma sa come andrà la storia come andrà scusami a finire sì beh possiamo dire la storia ecco sì in certo senso ecco però questo regno dell'anticristo è un qualcosa che avrà determinate caratteristiche per esempio ecco visto che parliamo di un uomo e un uomo potrebbe essere anche una donna faccio questa questa provocazione è questo questo io allora la tradizione ce ne parla sempre come di un uomo quindi mi sento di dire un uomo dopo sai visti i tempi e però mi sento di dire mi sento di dire un uomo però tanto anche questo è puramente speculativo certo quindi possiamo anche fare speculazioni di qualsiasi di qualsiasi tipo ecco alcune caratteristiche di questo anticristo come farà perché ovviamente dovrà in un primo momento in un primo tempo conquistare avere successo avere fascino e attirare a sé queste queste anime per perderle per condurle alla perdizione quindi quali sono le caratteristiche che vengono comunque assegnate all'anticristo allora dovrà giustamente come dici tu avere degli strumenti adeguati per attirare le folle per quindi traviare perché lui è il traviatore degli ultimi tempi dovrà ingannare chiaro che per ingannare una folla mondiale chiamiamola pure così ci vogliono degli strumenti all'altezza allora io in questa presentazione poi chi vuole approfondire nel libro ci sono altre insomma c'è la la disamina per quello che si può vorrei citarne tre gli strumenti innanzitutto grande intelligenza e fascino non sarà uno stupidotto sarà un individuo grande studioso che avrà grande preparazione e che avrà anche un fascino fisicamente parlando è perché è chiaro che se la bestia che sale dal mare fosse veramente una bestia chi si senterebbe a tratto chi si senterebbe a tratto genererebbe ripulsa avversione seconda caratteristica secondo strumento avrà questa figura misteriosa del precettore demoniaco di cui parlano vari teologi questo precettore demoniaco non è satana stesso ma è un demone particolare che satana decide di affiancare l'anticristo allora attenzione questo avrà il compito di illuminare in ogni istante della sua carriera della sua crescita questo corno che cresce ricordiamoci cresce tra virgolette in finta sapienza ma anche nello stupore nell'ammirazione che genera nella folla dovrà illuminarlo fase per fase in ogni scienza in ogni disciplina in ogni problematica che verrà sottoposta il precettore demoniaco è pur sempre un demono un angelo che conosce molto meglio di noi i segreti della natura e degli uomini non i segreti del cuore non i futuri contingenti ma dal punto di vista della conoscenza naturale ha una preparazione infinitamente maggiore della nostra quindi lo illuminerà istante per istante su come attrarre meglio le folle quando presenterà delle soluzioni che sembreranno accontentare tutti su problematiche anche teologiche problematiche sociali problematiche economiche è chiaro che l'anticristo essendo comunque un essere umano limitato non può avere la conoscenza in atto perfetta di tutto lo scibile umano non è possibile non è una divinità però potrà essere illuminato in maniera immediata da parte di questo precettore e questa è una figura abbastanza abbastanza diciamo interessante quanto anche misteriosa e poi c'è lo strumento dei prodigi qui siamo al contraltare massimo rispetto alla figura di Gesù Cristo Gesù Cristo proclama la sua autorità divina mediante i miracoli e dice che in quanto divino in quanto Dio può compiere questi miracoli l'anticristo non compie miracoli l'anticristo compie prodigi attenzione perché sono due cose due concetti diversi il prodigio è un fatto che diciamo sensibile va al di là delle leggi naturali ma solo diciamo in maniera parziale o apparente poi si possono fare anche alcuni esempi di questi prodigi il miracolo invece trascende completamente perché le sospende le leggi della natura e può essere fatto solo da colui che è padrone della natura quindi solo da Dio quindi Gesù Cristo in quanto Dio figlio può compiere miracoli l'anticristo non può compiere i miracoli può compiere prodigi fatti quindi straordinari perché sono comunque fuori dall'ordinario ma che trascendono le leggi della natura all'ordine naturale in maniera solo apparente o comunque parziale comunque i prodigi saranno sufficienti per ammagliare per stupire per ingannare allora attenzione Barbara qua al contraltare massimo Cristo non venne creduto in virtù dei miracoli cioè ricordiamoci le polemiche degli scrive dei farisei Cristo compie miracoli e questi qua si lamentano ah ma non puoi far miracoli di sabato ma stiamo spettando se hai un miracolo ah ma non puoi guarire di sabato ma che razza di stupidità di livello di ignoranza è di mala fede di mala fede anche questo l'anticristo compirà prodigi che attrarranno folle su folle su folle oceaniche ad esempio risurrezione dei morti può l'anticristo faccio solo un esempio far risuscitare i morti no questo lo può fare solo Dio può però l'anticristo fare il prodigio di risuscitare persone fintamente morte si può indurre degli stati che sono molto simili alla morte ma che non sono la morte e farli venir meno facendo venir meno l'azione che evidentemente esercita tramite il demonio su quei corpi in modo che sembri una guarigione improvvisa istantanea addirittura una risurrezione così come possono esserci dei fenomeni naturali nei fenomeni chiedo scusa straordinari come lo spostamento di oggetti ma certo lo può fare il demonio lo può fare ma creare ad esempio sostanze creare sostanze ex nichilo lo può fare solo Dio può l'anticristo modificare la composizione chimica di certi corpi in modo che uno si trasformi nell'altro si lo può fare lo può fare ma può creare queste sostanze no non lo può fare ecco sono veramente alcuni esempi anche le guarigioni finte le finte stimate ricordiamo che ci sono dei fenomeni che rientrano di buon diritto nella mistica sana di persone veramente mistiche devote a Dio ne abbiamo avuto innemorevoli casi nel corso dei secoli ma ci sono anche le stimati e questi fenomeni che sono demoniaci di natura diabolica la domanda di fondo che dobbiamo sempre porci è ma che finalità hanno questi prodigi cioè perché l'anticristo compie questi fatti perché Cristo ammaestra da un insegnamento rivela l'anticristo cosa vuole fare è per amor proprio per superbia certamente per aumentare il proprio stesso successo il proprio stesso potere per farsi ammirare ecco Gesù Cristo ti ridà la vista ti ti risuscita Lazzaro però alla fine non viene creduto e questi magari fanno sì allora l'anticristo è un po' la figura dell'illusionista certo è un mago un grande mago se ne parla nel libro no questo simon mago che era un poverazzo però compiva prodigi quindi un suo certo seguito pur essendo ridicolo pensare che simon mago sia stato un possibile anticristo però aveva un suo seguito c'è la disputa poi con san pietro eccetera ecco ecco poi una volta che l'anticristo raggiunge diciamo il successo riesce a catturare queste folle ecco il regno della menzogna e questo discorso della bestia che è posta all'adorazione universale è un concetto simile a quello di una dittatura potrebbe essere o qualcosa di potrebbe anche creare una nuova religione porsi come capo spirituale non necessariamente una figura mondana come un dittatore politico ma anche creare una nuova religione per esempio la religione dell'uomo dell'uomo dove c'è un po' di tutto prendo il sincretismo no e creare ed ergersi a capo di questa di questa nuova religione che poi che però non condurrebbe affatto a Dio ma condurrebbe alla sua negazione non solo non solo ergersi a capo ma io direi barba ergersi a oggetto di questa nuova religione protagonista di questa nuova religione prima di arrivare al punto del ruolo della chiesa in questo ecco il ruolo delle profezie perché ci sono state delle profezie di mistici ma addirittura anche se vogliamo parlare di di Fatima ci sono anche Fatima racconta è stato detto che il terzo segreto di Fatima sarebbe una prefigurazione di questo di questo regno dell'anticristo comunque avrebbe un carattere escatologico ecco qui come si concilia il divieto di indicare dove nascerebbe l'anticristo sono sono sopraggiunte in seguito al Papa Leone X delle ulteriori profezie che hanno un po' cambiato questa visione oppure è sempre valido quel sostanzialmente sostanzialmente il divieto di Papa Leone X non è mai stato violato anche perché insomma Papa Leone X rappresentava comunque la chiesa era il vicario di Cristo ora il vicario di Cristo non viene contraddetto da Cristo stesso quindi che non è che io voglia in questo momento dire che l'uomo e Dio sono la stessa cosa però capiamoci c'è una coerenza ci sono state noi non sappiamo cosa contenga il terzo segreto di Fatima anche lì ci sono delle congetture scongetture io preferisco non addentrarmi non addentrarmi in questo so però alcune cose perché quelle si possono si possono studiare quando ci sono state delle apparizioni in tempi sani che siano state della Madonna o di solito erano apparizioni che volevano ammonire l'uomo apparizioni che ammonivano l'uomo dove non è che la Madonna ringraziasse coloro che accoglievano il messaggio le redarguiva redarguiva gli uomini convertitevi altrimenti succederà questo ai pastorelli fa vedere l'inferno fa vedere la bruttezza dell'inferno quindi è un ammonimento e poi in questo caso coloro che sono stati protagonisti devono passare adesso io non dico le pene dell'inferno perché sarebbe un controsenso ma devono soffrire si convertono se non sono convertiti completamente cambiano cambiano la loro vita così come è vero che in queste profezie in queste visioni non è che a noi sia mai stata indicata una figura precisa no l'anno sarà il tal dei tali succederà questo anche lì ci sono state date probabilmente degli aspetti degli aspetti in più come dire ci stiamo avvicinando maggiormente sempre di più alla strada attenzione che proseguendo su questa strada però anche lì non è che venga violato venga detto quando inizierà chi sarà o esattamente dove nascerà ricordo anche che ci fu una visione che ebbe Papa Leone XIII durante la sua vita quando praticamente rappito da una visione durante una delle sue insomma della recita delle sue ore liturgiche ad un certo punto ebbe la visione di questa chiesa minacciata dai demoni che escono da una rottura da una spaccatura sulla superficie della terra Papa Leone XIII ne rimane talmente colpito ne parlo nel libro talmente colpito che immediatamente va a comporre la priera del sante Michel Arcangelo che alla fine della messa tridentina la messa bassa si recita ogni volta e che noi abbiamo perso che noi abbiamo perso perché nella messa nuova non si recita più questo come si sono perse tantissime tantissime altre cose quindi non c'è stato per venire alla tua domanda diciamo un superamento di questo divieto il divieto permane intatto certo lo dobbiamo comunque mantenere intatto anche noi ci sono stati se mai possiamo dire delle precisazioni ulteriori sul clima e su quella che può essere la strada che condurrà ecco quindi un regno della menzogna un regno che imporrà il culto dell'impostore che regnerà su tutta la terra quindi avrà un carattere diciamo globale non limitato ai cristiani ma che coinvolge anche tutta l'umanità anche altre religioni hanno questo concetto di al-dajal un concetto islamico appunto che è la stessa figura di colui che viene per ingannare per condurre quindi è un qualcosa che è presente è presente proprio nel cuore nel destino dell'umanità il dover passare attraverso questa prova prova che però serve a indicare ancora di più la strada che era già poi quella che era stata indicata da Gesù Cristo che però non è stata seguita certo allora se possiamo fare magari alcune descrivere alcuni aspetti di questo regno anticristico anche qua per questione di tempo ci rimettiamo veramente ad alcuni elementi hai detto giustamente un regno di estensione mondiale vero vero assolutamente prima domanda la capitale di questo regno è anche lì possiamo possiamo suggerire tante c'è chi è suggerito Gerusalemme che ha suggerito questo che ha suggerito quello può anche essere che si tratti di Roma Roma capitale una Roma completamente appostata questo regno di estensione mondiale viene instaurato in maniera militare nel senso che ci sono nazioni che all'inizio si ribelleranno e che dovranno essere conquistate con una lotta altre che invece vedendo il successo di questo regno semplicemente si proporranno loro stesse come suddite la durata del regno è quantificata in 42 mesi di solito se leggiamo Apocalisse 13 5 Daniele nel suo libro scrive che tutto sarà posto nelle mani del nemico per un tempo per più tempi e per la metà di un tempo tre fasi questo vuol dire una fase corta dove l'anticristo istituisce il suo regno una fase lunga in cui più lunga meglio più lunga in cui esercita il proprio potere in maniera piena e una cortissima in cui verrà sconfitto sarà anche un regno di grande persecuzione una persecuzione soprattutto anticristiana all'inizio graduale magari l'esclusione dai pubblici uffici magari qualche dileggio la non possibilità di portare simboli sacri che sta già succedendo in vari stati all'aperto quindi si inizia in maniera diciamo tra virgolette tra virgolette morbida poi infine però questa persecuzione diventerà totale tre quarti dell'umanità la maggior parte dell'umanità sarà completamente schiava di questo regno e riceverà il marchio della bestia anche qui potremmo aprire parentesi su parentesi atteniamoci solo a quello che ci dicono le scritture senza avventrarci anche qui in disamine che francamente ci porterebbero chissà chissà dove apocalisse 13 16 18 questo marchio della bestia in qualunque cosa consisterà è un segno di schiavitù esteriore e interiore padre Arrighini lo descrive anche con alcune parole ma prima di leggere padre Arrighini andiamo a leggere l'apocalisse tutti piccoli e grandi ricchi e poveri liberi e servi ricevevano un marchio nella mano destra o sulla fronte e nessuno poteva comprare o vendere se non chi ha il marchio il nome cioè della bestia o il numero del suo nome il numero della bestia è puntini puntini un numero d'uomo sappiamo che poi viene dato questo numero del 666 anche qui io nel libro lo dico subito non mi sono addentrato in una disamina sul significato di questo numero perché anche qui le opinioni le congetture abbondano padre Arrighini ha questo commento che trovo interessante su questo marchio il marchio fu sempre un segno di schiavitù né c'è dubbio che tale sia quello di cui si parla qui venga impresso nella carne o consista anche solo in una tessera scrive questo nel 44 ho ricevuto delle domande via e me il tempo fa ma potrebbe essere anche un chip potrebbe non lo sappiamo potrebbe sì venga impresso nella carne o consista anche solo in una tessera che tutti dovranno avere seco non c'è dubbio che importerà la massima soggezione tal che chi ne sarà primo non potrà né comprare né vendere né lavorare né mangiare né venire ammesso ad uffici e benefici gli uomini non tarderanno a perdere ogni dignità e si formeranno un'anima da schiavi quei forti caratteri che non si adatteranno e oseranno resistere saranno soppressi i veri pochi uomini spariranno per non restare che i vigliacchi e gli schiavi è il popolo che sempre ha prodotto ogni governo dispotico e del quale esso ha bisogno il dio del ventre per soddisfare le parole è terribile questa frase è terribile è il popolo che ha sempre prodotto ogni governo dispotico verissimo e del quale ha bisogno e del quale ha bisogno sarà anche un regno della menzogna come hai detto tu prima pone la bestia all'adorazione inversale Apocalisse 13.4 si chiede chi è simile alla bestia chi può presumere di competere con la bestia avrà anche un ministro assistente che sarà addetto a questa organizzazione del culto adorazione obbligatoria di questa bestia nella quale tramite un effigie dicono le scritture effigie nella quale sarà emessa allo spirito di vita questa bestia questo ministro del culto è una bestia che invece proviene dalla terra quindi una bestia anche qui un essere molto potente un'istituzione un essere molto potente che si affianca all'altra bestia questa è la visione cupa oscura di quello che è il regno dell'anticristo poi c'è la nuova Gerusalemme esatto e quindi descriviamo anche questo avvento come sarà secondo le scritture sconfitto l'anticristo allora innanzitutto come abbiamo detto in precedenza la crisi della chiesa è nato da decenni e quindi una deviazione insomma da quella che è la vera chiesa per chi conosce le scritture quindi parliamo anche dell'avvento proprio del regno anticristico per poi vedere la sua sconfitta questo non ci deve stupire perché già nell'antico testamento ci sono delle profezie in tal senso pensiamo ad esempio alla visione del traviamento del tempio che viene descritta da Ezechiele che vede sacerdoti e popoli ormai idolatri allora Ezechiele Ezechiele 8 1 18 trago direttamente dal libro vede il tempio di Gerusalemme con i suoi sacerdoti e signori del popolo ormai apostati e in preda all'idolatria all'ingresso del tempio ingresso interno viene collocato un idolo di gelosia cioè la statua di una dea pagana forse Astarte che provoca a ira Yahweh a settentrione della porta dell'altare Ezechiele vede un altro idolo attraverso un foro praticato in un muro vede una parete con dipinta ogni specie di rettidi e di animali ben 70 anziani vi si trovano dinanti con in mano un incensire per onorarli costoro sono i membri della classe dirigente del popolo di Israele attraverso la porta d'ingresso che guarda verso settentrione vede un gruppo di donne che piangono adone Dio amato da venere e ucciso da un cinghiale sul monte nell'atrio alla porta del tempio fra il vestibolo e l'altare vede 25 uomini voltati con la schiena al tempio e con la faccia a oriente intenti ad adorare il sole il sole nascente e questi uomini rappresentano il popolo quindi si sta descrivendo quello che poi San Paolo chiamerà l'apostasia parliamo della grande apostasia eppure anche a loro anche allora nascosti rimarranno mi si perdoni il termine perché a me non piace usare questo termine perché evoca altre cose i residui i residui comunque della chiesa dei fedeli dei sacramenti della messa di sempre nascosti probabilmente dicevamo prima bisogna tornare nelle catacombe non sappiamo se fisicamente o in un altro modo sì anche perché è vero che il regno anticristico avrà un'estensione mondiale ma quando parliamo dell'estensione mondiale non è necessario intendere tutti i singoli le singole isole le singole località qualcuna diciamo di nascosta potrà comunque essere ancora rimasta nostro signore si chiede quando verrà il figliuolo dell'uomo troverà ancora fede sulla terra per far vedere insomma quanto sarà grande questo castigo ma ecco che in quei momenti abbiamo detto Dio susciterà dottori di grande intelligenza e umiltà padre Arrighini ipotizza la figura dei cosiddetti dottori del popolo questi dottori del popolo come furono i martiri dei primi tempi che erano anche bambini bambine bambine ragazzetti giovani andranno coraggiosamente incontro alla morte pur di testimonare la verità e dal sangue dei martiri come diciamo scattore insomma la fede la chiesa ancora una volta ritornerà padre Arrighini parla così dei dottori del popolo si sarà trattato forse di un semplice contadino di un umile artigiano anche di donne e bambini che avete visto e dalle loro labbra qui sta parlando di dottori del popolo che già noi in vita possiamo aver riconosciuto persone di fede ma persone semplici dalle loro labbra uscì spesso una parola un avvertimento che ci illuminò persino ragionamenti che sciolsero questioni dissiparono dubbi ci distolsero dall'errore ci avvisarono del pericolo era l'amore che gli faceva parlare quell'amore infuso dal divin spirito che vede spesso assai più lontano dell'intelligenza noi sappiamo che la sconfitta dell'anticristo dopo questo periodo di grande persecuzione di devastazione assoluta avverrà in un attimo in un soffio come avverrà in che modalità ritorno di san michele arcangelo con le sue legioni può essere può essere un intervento divino di altro tipo può essere poi anche lì bisognerebbe entrare nei dettagli sai barbara di satana incatenato per mille anni giottato nel fondo d'abisso poi ci sarà un ritorno una rivincita e un'altra volta gli uomini torneranno ad andare dietro quindi vedi alla fine l'uomo non impara mai per poi arrivare alla sconfitta definitiva ecco tutto questo ed altro naturalmente viene raccontato sempre nei limiti del possibile all'interno del volume ecco quindi a questo punto è doveroso invitare i nostri amici a leggere questo libro perché come diceva Mauro prima si legge in un soffio però contiene tutto quello che si può considerare indispensabile sapere su questo argomento quindi è estremamente sintetico ma fondamentale per tutte le informazioni che raccoglie io vi ricordo che questo libro si può ordinare normalmente online però Mauro mi diceva che è via del tutto eccezionale se scriverete una mail all'indirizzo di Mauro Stenico lui vi può spedire questo libro a un prezzo speciale un regalo che Mauro molto generosamente fa ai cantori dell'orizzonte degli eventi tra l'altro Barbara ne approfitto per dire visto che è aperto l'angolo pubblicità se posso ecco chi vuole contribuire a sostenere le attività del canale della scuola di filosofia oltre a iscriversi per far crescere anche il canale può sapere che ha disposizione un mercatino dei libri ci sono nel senso sono libri che ho pubblicato nel corso degli anni sul discorso della proprietà della moneta sulla cosmologia ecco chiunque desideri uno di questi titoli o visionare quali ci siano può scrivermi direttamente anche lì mi incarico mi caricherò direttamente io della spedizione questo vale per il libro dell'anticristo anche per quello che hai citato all'inizio e per cui ti ringrazio Barbara che è quello dell'universo di Stalin così come per tutti gli altri quindi vi invito nuovamente a contattare il dottor Stenico se volete una copia di questo libro che fa una disamina di questa figura così importante che oggi che oggi possiamo dire che effettivamente gli indizi di essere in tempi piuttosto favorevoli all'arrivo dell'anticristo su questo non c'è dubbio ecco anche se nei secoli passati nei duemila anni del cristianesimo abbiamo vissuto tempi molto molto difficili però questi hanno qualcosa di particolare e quindi recuperare questa visione scatologica della vita è un modo anche per essere anche per trovare qualche risposta alle domande che ci facciamo di fronte a determinati avvenimenti che ci sconvolgono perché colpiscono proprio al cuore il concetto di vita allora grazie a Mauro Stenico per questa bellissima puntata ti invito a ritornare magari faremo un discorso un po' extra parleremo del tuo ruolo di sindaco e di amministratore vedremo cercheremo di farti dire qualcosa su quanto sia bello da un lato ma anche difficile essere amministratori vicini a una comunità ti ringrazio e un buon proseguimento con tutte le tue numerose iniziative e iscrivetevi al canale mi raccomando Scuola di Filosofia di Fornace grazie grazie Barbara grazie a tutti gli spettatori buona serata buona serata arrivederci grazie a tutti Grazie a tutti.